Vanno limitati gli zuccheri. Le cellule tumorali consumano 20 volte di più del glucosio delle cellule sane e si nutrono di glucosio e quindi è bene avere la nostra glicemia al di sotto del valore dei 100. Evitare l'apporto di latte e derivati del latte perché il latte contiene ormoni e fattori di crescita. Il latte contenendo gli ormoni quali sono le patologie su cui va a impattare? Sono la tiroide, la mammella ed ecco qua il tumore del seno, la prostata, l'ovaio. Il latte fa male perché contiene gli ormoni e l'altra cosa che contiene sono i fattori di crescita. Altro pallino, evitare il glutine. Perché? Perché il glutine che cosa fa? È responsabile, numero uno, io dico, dell'asfaltamento del nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario viene annullato se noi avevamo la possibilità remota di poter combattere un tumore, con il glutine ce l'annulliamo da soli. Tutti nel momento in cui io faccio questa affermazione mi dicono, ma dottoressa, ma mia madre, mio padre, i miei nonni sono cresciuti con la pasta, col pane, le tagliatelle. Ed io gli rispondo, benissimo, concordo appieno. Solo che che cosa mangiavano i vostri nonni, le vostre madri, tutti? Mangiavano delle farine che contenevano il 7%, il 5% di glutine. Quello che mangiamo noi è il 21%, quindi improvvisamente siamo diventati tutti celiaci. E grazie a questo fatto del contenuto altissimo di glutine che c'è, il nostro sistema immunitario è stato rottamato. Qui il glutine non c'è. Riso, un risotto lo troverete sempre ed ovunque. Poi, non so, i ceci, le fave. Tutto quello che vedete elencato qui, ecco il grano saraceno, che sarebbe benissimo i nostri pizzoccheri, adesso fanno la pasta fatta di grano saraceno. Oppure utilizzano moltissimo la quinoa. La quinoa è una cosa spettacolare, perché non è un farinaceo e non dà il picco glicemico. Mentre il riso è più ricco di amido, pur non contenendo glutine e quindi è più calorico, la quinoa è assolutamente innocua, sazia e può essere fatta come se fosse un couscous. Insomma, bisogna mettersi un po' in cucina e inventarsi cose diverse. Grazie.